Weekend importante per il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione che si lega ancora più alla giostra del Saracino pur mantenendo la propria identità di ricerca nei mezzi di comunicazione. Cosa avete realizzato? Esatto, siamo molto felici di aver realizzato questo fuori mostra che è una collaborazione alla mostra che è stata inaugurata poco tempo fa in Piazza Grande, 90 anni sulla Lizza, per i 90 anni appunto del Saracino e il Museo dei Mezzi di Comunicazione quindi sempre più legato al territorio però giustamente con le sue tematiche. Quindi quello che abbiamo fatto è una digitalizzazione di due pellicole una in 16 mm in bianco e nero muta e l'altra 35 mm a colori sonora degli anni 50 dalla regia di Guido Gianni che sono due pellicole che trattano della storia di una sorta di pubblicità del spot del Saracino una cosa molto particolare che sarà proiettata qui al museo tutto il fine settimana della Fiera Antiquaria Oltretutto in forma gratuita quindi è veramente un bel regalo Un regalo appunto alla città, quello che vogliamo fare, la collaborazione comunque con la famiglia proprio del regista è stata fondamentale proprio per la messa a disposizione di questo materiale fra cui le pellicole originali sono proprio esposte anche all'ingresso del museo Grazie! Grazie!